dunque breve video pomeridiano per aggiornarvi sui risultati della rolanda ross portiamo altri due azzurri anzi a t3 perché il derby tra sinner e major garantirà comunque vada il terzo italiano a il terzo italiano della giornata e quindi il quarto in totale al terzo turno berrettini ha battuto per 3 7 a 0 coria 6 3 6 3 6 2 partita senza storia matteo ha vinto abbastanza facilmente come abbastanza facilmente ha perso seppi contro il coreano con con sovon 6 4 7 5 7 5 3 7 lottati ma l'impressione è che seppi non non ha mai dato l'impressione di poter vincere la partita musetti ha battuto 3 7 a 0 nishioca avversario temibilissimo che io temevo particolarmente 7 5 6 3 6 2 tutto abbastanza facile nella derby volevo farlo dopo la fine di sinner ma è purtroppo sinner ha perso c'è purtroppo purtroppo per sinner e per fortuna per la major sinner ha perso il terzo sette sciupandomi di fatto la possibilità di dovendo ora uscire di fare il video con i quattro italiani qualificati e invece sinner avanti 271 ha vinto i primi due 61 75 e poi ha perso il terzo per 63 quindi detto questo noi ci vediamo dopo per la fine della partita di per il commento della fine della partita di sinner per il commento generale perché a quel punto ci sarà anche la partita di cerchilato e per il commento della giornata di gare alla rolanda rossa ne portiamo appunto buono benissimo berrettini e musetti il terzo italiano sarà dalla sfida tra sinner e manager come detto perché obbligatoriamente uno dei due perderà ma l'altro passerà il turno e poi c'è la sfida per niente facile di cecchinato a deminaur con la quota di deminaur ve lo dico subito in netto crollo da partire da ieri siamo partiti con deminaur che era che era sfavorito adesso le quote dicono parità 1 e 90 1 e 90 che già la cosa a me torna un pochino di più quindi io vi saluto vi invito nuovamente a iscrivervi a questo canale a mettere i like al video come vedete gli aggiornamenti cerco di darveli il più possibile detto questo ci vediamo domani ci vediamo stasera per il per il completamento della giornata e buona giornata a tutti